Sarà la dama di questa coppia di re e regina che escono dalla scacchiera della terza giornata dei campionati italiani assoluti, Nuccio e Gregorio, campioni italiani di sciabola, oggi la spada, domani spada squadra e poi domenica ci saranno gli ultimi due titoli individuali quelli del fioretto maschile e femminile, Giulia Rizzi per bissare il successo di Cassino, Mara Navarria per il poker di titoli tricolori. Iniziamo subito con una passività, Mara Navarria campionese italiana nel 2010, nel 2012 e nel 2016, però nessuno ha confermato il titolo tricolore dello scorso anno, la sciabola sarebbe stato difficile perché sia Gigi Sammele che Irene Vecchi non erano presenti l'altro ieri sulle pedane di La Spezia per quanto riguarda la spada, Isola e Vismara sono stati estromessi anzi tempo dalla competizione. Sono due colpi doppi quelli che per ora caratterizzano il match, due pari il punteggio. Stavolta trovo un bell'affondo Giulia Rizzi con un passo molto ampio avete visto l'enorme l'apertura che ha portato a entrare molto bene nella misura dell'avversaria, una stoccata di fisico, però come abbiamo visto anche in semifinale stoccate portate con perfetta scelta di tempo perché non si tratta di un affondo esplosivo, un affondo molto penetrante ma non non è così veloce ma ripeto quando la velocità è quella giusta e giuste sono la misura e la scelta di tempo poi il punto arriva. prima frazione interlocutoria una piccola differenza data proprio da quel punto che abbiamo visto negli ultimi secondi della frazione, poi tanto studio, tanta ricerca del ferro ognuna delle due proprio continuamente, a turno quasi andava a cercare il ferro dell'avversaria per farla muovere. riprende il match vediamo quasi punto per entrambe, Alizi non ha chiuso bene l'attacco e dalla parte opposta alla navarria non è riuscita a mettere dentro l'arresto, adesso partiamo con una misura non corretta dalla navarria la Rizzi trova il punto numero 4 bella partenza colpo doppio bella partenza colpo doppio bella partenza per il punto numero 5 la Rizzi trova il punto numero 5 e questo è un doppio errore partita fuori misura la navarria ha parato risposto la Rizzi che non ha trovato il bersaglio è arrivata la rimessa di Mara Navarria ancora un colpo doppio sono tre tre colpi doppi forse addirittura quattro in questa in questa finale vedete finale che si gioca essenzialmente a centro pedana quindi questo significa che nessuna delle due riesce o vuole dare pressione più di tanto all'avversario vedete continuo in questa ricerca del ferro fa un po' la Rizzi e un po' la Navarria cercano in questo modo di far scoprire l'avversario adesso molto brava Mara Navarria para e poi risponde anche di cavazione quindi una risposta composta insolita nella spada nella spada si tende sempre proprio per evitare la rimessa dell'avversaria per evitare che l'avversaria metta la punta sul bersaglio si tende sempre a rispondere mantenendo il contatto della lama ci ha riprovato la Mara Navarria stavolta è venuto fuori un doppio proprio per quello che dicevo cioè il momento in cui dopo la parata si stacca la lama si stacca il ferro l'avversario tende anche istintivamente a cercare il bersaglio lo scambio a pochissimi istanti dalla fine della seconda frazione si torna in parità e allora tre minuti per decidere chi sarà la campionessa italiana guardate abbastanza affaticate poi è anche molto caldo l'incontro che ha veramente da dire tutto nel senso che non non si intuisce nemmeno non si è intuito nemmeno chi potrebbe essere con lei in grado di dare la svolta ognuna delle due ha avuto delle buone stoccate ma non c'è stata una non c'è stata qualcuno che comandasse il ritmo gli scambi e quindi adesso siamo 0 a 0 continuiamo cercare il tempo con il ferro da Rizzi colpo doppio ancora colpo doppio 9 pari e arriva e trova un gran colpo al piede Mara Navarria un po' sorpresa Giulia Rizzi adesso è lei che deve cercare qualcosa e rimane ferma sulla parata Giulia Rizzi e due punti di vantaggio per Mara Navarria piccolo break che comincia ad avere un peso nell'economia di questo assalto adesso cerca una soluzione un po' avventata Mara Navarria si prende la parata risposta di Giulia Rizzi 11-10 colpo doppio ancora tanti tanti doppio in questa finale e guardate la differenza dove arriva ancora un attacco leggermente fuori misura di mano a Navarria una parata risposta della Rizzi che non va a segno e la rimessa della Navarria due volte è successo in questa terza frazione tre volte in questa terza frazione e Mara Navarria vola sul 14-11 e guardate dove arriva il punto vincente arriva sul polso di Giulia Rizzi sorriso di Mara Navarria per questo successo torna al tricolore Mara Navarria quarto titolo italiano per l'atleta friulana della l'atleta friulana dicevo del centro sportivo dell'esercito con società di allenamento schermatreviso grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.